Un regalo, grazie di vero cuore, benvenuti in questa live, con lo so presonjo in honor, grazie Valeria per avermi seguita, grazie Lina per avermi seguita, uuuh, che paura! Il problema evidentemente è enorme, però io per carattere non sono uno che soffre di ansie, e quindi se dovessi dire, lo vedo, cerco di vederlo freddamente come un problema che l'umanità farà meglio a imparare ad affrontare.